Voilà! Io sono Philips Country, sono venuto qua dalle montagne a trovare qui il nuovo candidato, il nostro amico Emy Lapalla. Vi faccio vedere il suo programma di governo e mi raccomando votate Emy Lapalla. Ciao a tutti, mi sono presentato esperienza nuova per portare i problemi che abbiamo noi agricoli. Allora, qui Emy Lapalla perché io sono il creatore di palle e allora Emy Lapalla. Le problematiche che voglio risolvere sul caro bollette, io ho la soluzione in tasca, forniremo a tutto il ceto medio di torce per fare l'illuminazione. Per il riscaldamento forniremo la legna da ardere, si passerà riscaldamento a legna. Per la mobilità forniremo dei monopattini a pedali. Nei casi estremi abbiamo sempre qua pronta la bandellina. Nei casi estremi c'è quello. Allora Emy, come risolvi il problema degli immigranti che sbarcano sempre sulle coste italiane? Sì, sulla domanda che mi fai degli immigranti, noi forniremo navi da crociere, andranno direttamente in Africa a prelevare tutti gli immigranti. Noi siamo il nuovo che avanza. Sul discorso reddito di cittadinanza lo forniremo a tutti gli abitanti del suolo italiano. Reddito di cittadinanza è steso a tutti. Come si suol dire, vota, lo slogan è questo, vota me e Emy Lapalla. Mi raccomando, andate tutti a votare e votatemi. E non ridete che non c'è da ridere, non c'è niente da ridere. Un saluto a tutti e mi raccomando, votate tutti e siate tutti numerosi. Ciao ciao, mi raccomando, allora andate a votare e votate Emy, votate me e lui e votate Emy Lapalla. Mi raccomando, andate tutti in massa a votare. Ciao, alla prossima collaborazione con Emy Lapalla. Quella io me ne vado. Ciao ciao.